pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati immergiamoci nel triduo pasquale questo tempo di grazia che inizia con la celebrazione del giovedì santo con la messa nella cena del signore dove meritiamo sulla lavanda dei piedi testo bellissimo mediante il quale l'evangelista giovanni ci comunica il significato dell'eucaristia e potremmo dire dell'intera vita di gesù gesù avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine nel suo lavare i piedi ai discepoli è significato il dono di tutta la sua vita lui che è venuto per servire per dare la sua vita per noi perché accogliendo questo dono anche noi possiamo dare la vita gli uni per gli altri noi ci soffermiamo in particolare su due punti fondamentali per vivere una sana vita spirituale primo lasciarci amare da gesù secondo servirci gli uni gli altri siamo nel contesto della pasqua giudaica gesù è a cena con i suoi discepoli ad un certo punto li spiazza tutti lui che è il maestro e il signore si alza depone il mantello si cinge di un lenzuolo di un grembiule e inizia a lavare i piedi suoi un gesto inaudito generalmente era un gesto compiuto dagli schiavi addirittura non ebrei nei confronti dei loro padroni era un gesto di accoglienza fatto quando si rientrava a casa perché le strade erano sterrate sporche i piedi si sporcavano tantissimo dunque gesù mette in atto il gesto di uno schiavo e infatti i discepoli sono spiazzati pietro si oppone non vorrebbe lasciarsi lavare i piedi prima dice signore ma come lavi i piedi a me ma tu non me li laverai in eterno e gesù pietro se non ti lasci lavare non avrai parte con me abbiamo qui il termine meros che indica aver parte a una comune eredità cioè pietro se non ti lasci lavare non sarai in comunione con me miei cari da dove parte la vita spirituale da dove parte il nostro essere cristiani parte dall'accettare gesù come signore salvatore della nostra vita cioè accettare che sia lui a salvarmi e questo man mano si concretizza in tanti aspetti importantissimi proprio per la nostra crescita anzitutto lasciarci amare gratuitamente lasciare che il signore metta mano nei nostri piedi cioè nella parte più umile più sporca in ciò che non va della nostra vita non abbiamo un problema pensare di dover meritare l'amore di dio dunque se noi facciamo i bravi dio ci ama ci dà le grazie se manchiamo laddove non siamo all'altezza quando cadiamo fulmini e saette dio lontano ha dirato contro di noi che non ci ama più no miei cari il signore ci ama di un amore tenero potente gratuito e quest'amore capace di cambiare il nostro cuore noi abbiamo bisogno di lasciare che dio metta mano nella nostra vita in ciò che non va lasciandoci perdonare non una non due non dieci non cento ma mille diecimila volte cioè sempre sempre avremo bisogno del suo amore sempre avremo bisogno della sua misericordia tanto più camminiamo tanto più ci rendiamo conto di aver bisogno di lui in questo noi abbiamo tante resistenze lo capì bene anche san girolamo quando da giovane si ritirò per vivere un tempo di eremitaggio e iniziò a fare tante penitenze con uno stile di vita molto austero ma le difficoltà le cadute non mancavano e lui era scoraggiato sconfortato un giorno si mise in preghiere davanti al crocifisso e disse signore ma cosa vuoi da me aiutami e senti come gesù che gli diceva girolamo cosa hai da offrirmi e girolamo pieno di gioia iniziò signore le mie veglie e i miei digiuni bravo girolamo vedo che ti stai impegnando e cos'altro hai da darmi e signore il mio dormire poco i miei studi sulla bibbia e il mio pregare con i salmi bravo girolamo e poi cosa hai da offrirmi e girolamo non sapeva più cosa dire e allora gesù gli disse girolamo c'è ancora una cosa che non mi hai dato dammi i tuoi peccati perché io li possa perdonare ecco mi cari primo punto lasciarci amare gratuitamente lasciarci servire dal signore lasciarci perdonare da gesù lì inizia a cambiare il nostro cuore e poi ecco il secondo punto una volta accolto l'amore di cristo metterci a servizio gli uni degli altri gesù si cinge nuovamente le vesti e dice ai suoi voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono se dunque io lavato i piedi a voi anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri si tratta di essere coinvolti nel dinamismo del suo amore accolgo la sua vita donata e dono la mia in scia a lui in comunione con lui servirci gli uni gli altri ecco la regola fondamentale di un cristiano di una famiglia cristiana di una comunità cristiana l'amore che circola che dà vita che da gioia ora magari parlando di servizio prova a stigmatizzare alcuni problemi che noi cristiani di qualsiasi vocazione possiamo incontrare prima cosa la difficoltà che abbiamo a servire l'altro noi preferiamo spesso a servire l'altro tener vicine le persone perché siano a nostro servizio non solo un altro problema è quello di servire senza gratuità cioè io servo sì ma lo faccio perché o mi aspetto qualcosa da chi servo o perché cerco me stesso in quel servizio vi faccio un esempio ci sono persone che dicono che vanno a servire i poveri perché si sentono bene persone che fanno un servizio magari anche in parrocchia perché gli dà un ruolo una visibilità ma la domanda è i poveri si servono perché ti fa stare bene o per amore loro quello che faccio in parrocchia in un movimento in curia lo faccio per la gioia di servire o perché cerco me stesso il mio tornaconto d'immagine perché mi dà un ruolo mi dà un potere il problema di servire nella gratuità e infine lo spirito di servizio padre cantare messa ha fatto notare come il servire di cristo sgorghi dalla sua carità e dall'umiltà prima di fare il bene c'è il voler bene agli altri e tutto deve essere impregnato di umiltà io posso fare qualcosa ma farla pesare farla con superiorità il manzoni faceva notare che ci sono persone che sono capaci di mettersi sotto gli altri ma non sono capaci di mettersi al pari degli altri io posso andare a servire i poveri ai tavoli cosa bellissima ma non essere capace di sedermi a tavola con un povero di parlare con lui da pari a pari ci sono persone che fanno anche del loro servizio un piedistallo per mettersi o sopra gli altri oppure apparentemente sotto di loro ma perché si sentono meglio di loro allora ci potremmo domandare seriamente lo spirito del nostro servizio da laici da sacerdoti da cristiani di cosa profuma di umiltà o tanfa di superbia so mettermi a servizio degli altri anche nelle cose più umili oppure mi metto servizio solo per quelle più altisonanti più importanti della serie in parrocchia se c'è da leggere leggo ma se ci sono da fare le pulizie o i servizi più umili no 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 quelli li lasciamo fare a qualcun altro capite quanto è sottile imparare a servire come gesù dando veramente la vita ponendoci in modo umile felici di poterci servire gli uni gli altri con cuore semplice di bambino quello che posso fare per te lo faccio di cuore con gioia mettendo a servizio i doni che dio mi ha donato e lasciandomi anche servire da te in ciò di cui ho bisogno molto belle le parole di san giovanni paolo secondo che parlando dei malati diceva che non c'è soltanto la carità di chi si prende cura dell'ammalato ma c'è anche la carità dell'ammalato che lascia che l'altro si prenda cura di lui e allora miei cari se lo faremo scopriremo sempre più che c'è più gioia nel dare che nel ricevere e come disse quell'autore sognai che la vita fosse gioia mi svegliai ed era servizio ho servito e nel servire ho trovato la gioia cari fratelli e sorelle mettiamoci davanti a gesù contempliamo lui nostro signore nostro dio che per primo è sceso e continua a lavare i piedi a ciascuno di noi non temiamo di lasciarlo entrare nelle zone più sporche più buie più irrisolte del nostro cuore e impariamo da lui a metterci a servizio degli altri imparando ad amare gli altri anche nella loro miseria a sostenerli nella loro fragilità sostenendoci gli uni con gli altri volendoci bene gli uni gli altri e allora le nostre comunità diventeranno veramente attraenti perché profumeranno di quell'amore divino che è la carità che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti